Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Marvel Villainous, gioco in edizione italiana che ci è stato offerto direttamente da Ravensburger, che ringrazio di cuore per la copia fornitaci e ovviamente era soltanto questione di tempo aspettare che arrivasse una variante Marvel del gioco Villainous, che se vi ricordate vi lascio anche il link in descrizione, ci ho già fatto un video per quello che riguarda gioco base più espansione, gioco di carte divertentissimo, deck building veramente veloce e un gioco fresco e competitivo che secondo me fa veramente al caso di tutti. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Marvel Villainous, gioco come detto poc'anzi della Ravensburger, ci porta nel mondo Marvel, dove ancora una volta, come prende il titolo Villainous, andremo ad interpretare uno dei cattivi famosi. E nella scatola di base, ma sicuramente vedrà anche delle espansioni, ce ne sono cinque che sono il più famoso ovviamente Thanos, poi c'è Ela, che arriva direttamente da Asgard, Ultron, Killmonger e Taskmaster. Questi sono i cinque cattivoni, i Villain, appunto Villainous, nel set di base, e le regole del gioco sono le stesse dell'altro Villainous, quello praticamente della Disney, con tutti i cattivoni della Disney, laddove noi avremo la nostra plancia, che è il nostro dominio, quindi magari, come vi ho detto, un'Ela potrà partire da Asgard, o comunque dalle sue regioni, comunque collegate sempre agli dei nordici, e ciascun giocatore, col proprio cattivo, avrà il proprio set di carte, ci sarà un mazzo di carte fato che sarà un mazzo in comune che le carte fato sono gli eroi, in questo caso della Marvel sono i supereroi, tipo Thor, tipo gli Avengers, e non solo, che cercheranno di mettervi bastamente tra le ruote per fermare il vostro piano, perché lo scopo del gioco è quello di vincere a punti e andare ad avere il sopravvento su tutti gli altri cattivoni che saranno in partita. Voi, come regola principale, avete le vostre zone dove potete muovere la vostra pedina, tra l'altro fatte veramente belline, ve le faccio vedere nel corso del video, potete muovere il vostro cattivone spostandovi come azione da una zona all'altra, dove volete, ovviamente, almeno che qualcosa non vi vada a dire di una regola particolare, soltanto nel vostro dominio. Quindi voi spostate la pedina nel vostro dominio, guardate nella zona dove l'avete spostata l'elenco delle azioni che vi fanno fare, magari vi fa pescare carte, magari vi fa giocare una carta, magari vi fa iniziare un combattimento, o magari semplicemente vi fa ripescare carte o vi fa spostare carte che sono già in gioco. Perché le carte che voi giocate sono o servi vostri, o carte evento, o armi, equipaggiamento e potenziamento. Voi potete prendere un vostro servo, ovviamente, giocarlo nella vostra parte bassa del tavolo, quindi sotto alla zona, perché lui la vada a difendere, oppure perché un altro giocatore, tramite evento o tramite un'altra maniera, ha giocato uno dei suoi servi sulla parte alta della vostra zona e a quel punto vi avrà bloccato tutte quante le azioni. Bloccandovi le azioni di quella data zona del vostro dominio, voi dovrete prendere un gruppo, o anche soltanto dei vostri alleati, schierarli ricontro e sconfiggere l'eroe appunto che vi è stato messo, il servitore che vi è stato messo da quell'altro villain. E per farlo dovrete avere un livello di forza pari o superiore rispetto a quello che vi sta attaccando e bloccando la zona. Il gioco, ragazzi, è veramente facile e, come appunto nell'altra variante di Villainous, è un deck building, secondo me, molto veloce per gli amanti, veramente, di questi giochi qui, ma non soltanto di carte, anche un po' di strategia e di sabotaggio. È veramente, veramente interessante. In conclusione, questo Marvel Villainous è quello che ci voleva, perché, come vi ho già fatto vedere, anche in Pandemic Villainous è un sistema universale con cui si possono usare tutte le ambientazioni di questo mondo, perché qualsiasi ambientazione è cattivi. Cioè, ci vedo anche, ad esempio, Warcraft Villainous, perché, comunque, tutti quanti i cattivi che si danno battaglia, sarebbe veramente bello vedere qualcosa del genere. E era soltanto questione di mesi prima che arrivasse la Marvel, perché c'ha i cattivi comunque più famosi della storia, mettiamola così. Ed è un gioco veramente interessante, alla portata di tutti, fresco, genuino e veloce. Io ve lo consiglio, se amate i deck building, e giochi con un po' di competizione fresca, di sabotaggio, che non fa mai male. Se io ringrazio, ovviamente, la Ravensburg per questa copia fornita, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dal nostro negozio sponsor, gioco in libreria Semola, al miglior prezzo sul mercato. ricordatevi sempre, come vedete, in descrizione a nota, usate il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%, e se superate la spesa complessiva di 79 euro, spese postali gratuite in tutta Europa, quindi anche se siete fuori dall'Italia, potete ordinare, in tutta Europa, in 24-48 ore, va a arriva a casa, quindi il servizio è eccellente. Se lo trovate in lista, ma è finito, o proprio non c'è nel catalogo, mandate una mail a supporto, a Corrado, il proprietario della gioco libreria Semola, e fateli presente che arrivate dal canale di Coridan. Lui farà il possibile per trovarvelo e farvelo avere almeno il prezzo possibile, ve l'ho detto in più con lo sconto anche, quindi usate sempre Coridan7. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate e io non vedevo l'ora che uscisse. Grazie di cuore a Ravensburger. Ciao, alla prossima!